Monitorare i grandi cantieri e anche quelli delle Olimpiadi. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli per le Olimpiadi Invernali sono tra gli osservati speciali della Guardia di Finanza. Alla cerimonia per il cambio di comandante dell'Italia nord-orientale delle Fiamme Gialle, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ribadisce i pericoli che corre una regione che ad una economia vivace unisce l'abbondante flusso di finanziamenti in arrivo. Questa è una partita importante con la quale stiamo lavorando, loro sono dei professionisti assieme alla DDA, quindi alla Procura, a un po' tutte le istituzioni, visto e considerato che il Veneto è oggetto di grandi investimenti, non ultimo quello delle Olimpiadi che sarà veramente una grande opportunità, lo è per noi veneti, ma rischia di esserlo anche per qualche delinquente. Venezia è stato ricordato nel corso della cerimonia, la caserma Tommaso Mocenigo della Giudecca vive una situazione particolare con l'aumento di un'offerta legata al turismo non sempre in regola, a contrasto della quale la Guardia di Finanza agisce anche a fianco della Polizia Locale. C'è una collaborazione ormai da quasi un decennio, sviluppiamo modelli operativi assieme e anche operazioni di repressione delle frodi tributarie locali e nazionali. Essentemente ci sono stati diversi controlli da parte della Polizia Locale, poi poi le attività commerciali e i pubblici esercizi sono arrivate anche diverse molte. Sì, dopo la stazione della pandemia dove c'è stata un'attenuazione dei controlli, vista anche le condizioni, stiamo rientrando nella normalità e quindi è bisogno che tutti rientrano nella normalità.